Manca meno di un mese alla riapertura delle scuole, ma per quello che riguarda le linee guida definitive si tende a fare le scelte finali non prima dei 14 giorni canonici che precedono l'apertura della scuola. Un fatto è certo, gli spazi saranno un problema, i presidi si stanno organizzando a macchia di leopardo perché non ci sono indicazioni precise. Si richiederà l'osservazione scrupolosa delle distanze, della sanificazione delle mani e dell'uso della mascherina, ma soprattutto c'è la responsabilità penale dei dirigenti scolastici nel caso di uno studente positivo. Quanto sono preoccupati i presidi per questa responsabilità penale che voi avete in caso ovviamente di un positivo e soprattutto se c'è uno studente positivo nella vostra scuola, che succede? Noi siamo molto preoccupati per evidenti ragioni perché i dirigenti scolastici sono assimilati ai datori di lavoro e mentre la malattia per Covid-19 essa stessa è catalogata come un infortunio sul lavoro. Il fatto che poi i presidi cerchino di attuare le regole per evitare il contagio, tutto questo non elude anche da possibili responsabilità di natura penale, proprio perché talvolta i giudici in sede di processo considerano quelle che sono le tradizionali cautele, le tre regole che avevamo definito auree, quella della mascherina, del metro di distanza, del lavaggio delle mani, però in certi casi anche a favore del datore di lavoro i giudici considerano cautele diciamo così meno tipiche, meno usuali che il datore, in questo caso il preside, avrebbe dovuto assumere. È chiaro che tutto questo espone i dirigenti scolastici a un novero di responsabilità immane, quindi sarebbe stato auspicabile da parte del Ministero un intervento legislativo di revisione di questo aspetto della responsabilità penale che è di per sé davvero molto gravoso. Nel caso in una classe qualcuno risultasse positivo al coronavirus dovranno essere fatti i controlli a tutti, potrebbe anche scattare una chiusura temporanea ma poi la scuola dovrà riaprire. Ad affermarlo è stato il Vice Ministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Se uno studente ha la febbre, la tosse, ha comunque dei sintomi evidenti che possano ricondurre al Covid-19, come vi dovete comportare? Beh, questo ancora non è stato definito con esattezza, però sappiamo di dover invitare l'alunno o anche il personale stesso, i luoghi appositi che dobbiamo organizzare, nel caso dell'alunno avvertiremo la famiglia, avvertiremo altresì anche il nostro medico, perché la famiglia ovviamente si muoverà in modo autonomo con il medico stesso di famiglia, a cui si rivolgono usualmente, e poi prenderemo tutte le cautele del caso. E' evidente perché la tutela personale si accompagna alla tutela collettiva e oggi le due cose funzionano in sinergia, sempre.